Abbiamo adesso un'altra vettura importante, è un Alfa Romeo Duetto, carrozzata da peniferina con la coda lunga che poi veniva chiamata osso di seppia proprio per questa forma particolare della coda lunga. È un prima serie, naturalmente è stato fatto in varie versioni, 1300, 1600, 1700 e 1700, questo è un 1300. Ebbe un grosso successo in America dovuto anche al fatto del film Il Laureato con Dustin Hoffman, tanto che le versioni successive vennero vendute proprio con il nome The Graduate, che in America vuol dire Il Laureato, proprio per rifarsi questo film. Però la versione proprio che è stata usata nel film era questa, la versione osso di seppia. La meccanica è medesima, è uguale a quella del GT, quindi 89 cavalli, 4 cilindri in linea via albero, Alfa Romeo e 170 all'ora di velocità massima. Vettura molto piacevole, la carrozzeria e di Pini Farina e quindi basta dire il nome che è una garanzia di vetture bellissime. Grazie.